Ormai il 2017 può essere caratterizzato come l'anno di Nokia, quello del ritorno di un brand amatissimo nel nostro paese in modo particolare. Sappiamo che il logo, il marchio, adesso è nelle mani di una società di base finlandese che si chiama HMD Global, che ha lanciato diversi modelli. Il più potente arriva ora, lo incontriamo proprio in questi giorni, il nome è Nokia 8. E allora ecco il nuovo Nokia 8, quello che arriva anche da noi sul mercato proprio in questi giorni. Online lo trovate su Amazon ad un prezzo intorno ai 480 euro, che secondo me rappresenta un prezzo davvero interessante per un prodotto realizzato davvero benissimo. Le caratteristiche sono molte e sono anche molto interessanti. Vado immediatamente a raccontarvene un po'. Partirei proprio dall'aspetto del telefono realizzato secondo me con la cura che Nokia ha sempre saputo dare ai suoi prodotti. Parto dalla doppia fotocamera posteriore con l'ottica di Zeiss, è una camera da 13 megapixel. Poi torniamo anche su questo argomento. Il display da altissima definizione, 1440x2560 con una diagonale da 5,3 pollici, piuttosto inconsueta. Sono pochissimi, sto cercando di ricordarmi quali telefoni, ma comunque è una dimensione piuttosto inconsueta, di solito 5,2 piuttosto che i 5,5. Un telefono con il suo interno, il processore Snapdragon 835. Ci sono due versioni per quanto riguarda la dotazione di RAM. Una dotazione con 64 giga di memoria e 4 giga a bordo, quella che sto provando. Un'altra invece con 128 giga di memoria e con ben 6 giga di RAM. Altra caratteristica è quella della fotocamera anteriore, ben 13 megapixel, anche per il sensore frontale che vedete in questa posizione, in grado di catturare video a 2160 pixel. Voglio cancellare tutte le notifiche, voglio chiudere anche tutte le applicazioni che erano aperte per mostrarvi un po' la velocità con cui questo prodotto si muove. Devo dire che la velocità è notevole in tutte le occasioni. Adesso ovviamente il caricamento dipende molto anche dalla velocità essenzialmente della rete, quindi insomma del caricamento del Wi-Fi. Però guardate, questo Snapdragon 835 non è solo super performante, lo si vede soprattutto quando si passa da applicazioni magari un pochettino più complesse da gestire. Vedete insomma anche queste applicazioni con apertura praticamente istantanea, ma non è tanto questo il dettaglio che coglierete delle applicazioni, piuttosto quello che è un telefono che non si scalda mai, mai avuto alcun tipo di problema di surriscaldamento nonostante la superficie metallica sulla parte posteriore. Ma abbiamo appurato che questo Snapdragon 835 da questo punto di vista è veramente ottimo. Allora, l'aspetto del telefono. Un lato con il pulsante d'accensione e il famigerato volume rock, la parte superiore solo con l'attacco da 3,5 mm per le cuffie, il cassettino con due nano SIM oppure una nano SIM e una micro SD, la parte inferiore con altoparlante con attacco USB Type-C, come detto la parte posteriore con doppio sensore da 13 megapixel con l'ottica Zeiss, che è un marchio che vediamo se riesco a inquadrarvi ce la farò prima o poi a rimettere a fuoco tutto quanto, però insomma fidatevi c'è il marchio Zeiss qui sulla parte posteriore. Come detto 5,3 pollici QHD con un sensore delle impronte digitali sulla parte frontale dove vedete ci sono anche i tasti funzione che sono fuori dallo schermo, quindi il tasto back e il tasto se vogliamo chiamiamolo multitasking. Quindi questa è la dotazione base del telefono. 151,5 mm, 73,7 in larghezza, 7,9 mm di spessore e vi devo dire che tutto sommato avete una percezione di un telefono molto più sottile di quello che è in realtà grazie a questa parte stondata, vedete esattamente il contrario rispetto a Nokia 6, Nokia 6 che invece qui era molto squadrato, quindi dava l'idea di un telefono quasi più grosso di quello che è in realtà, invece Nokia 8 non solo facilmente impugnabile, ma dà anche questa percezione di un telefono più sottile di quello che è in realtà. leggibilità del display, devo dire da contorsionisti, potreste leggere tutti i messaggi nel vostro vicino di posto sull'autobus o in metropolitana, luminosità ottima anche sotto la luce riflessa, vedete qui ad esempio adesso vedete una luce diretta e comunque rimane una luminosità, una leggibilità più che buona. A bordo c'è Android 7.1.1, presto ci sarà l'aggiornamento a Oreo. Voglio mostrarvi peraltro, dopo torniamo anche ad alcune delle funzionalità, il menu di questo telefono che vedete lascia molto poco alla personalizzazione del telefono. Avete essenzialmente come unica gesture disponibile il fatto dell'apertura della fotocamera toccando due volte il tasto accensione in qualunque schermata. Per quanto riguarda i movimenti, vi faccio vedere come usare i movimenti, vi racconto quali sono, anche capovolgere per rifiutare la chiamata oppure alzarlo per abbassare il volume. Qua viene spiegato essenzialmente come fare, capovolgendolo essenzialmente si rifiuta una chiamata, invece per togliere la suoneria mentre sta suonando quando arriva una telefonata, basta agganciare il telefono e sollevarlo dalla superficie su cui è appoggiato. Però ecco, tolte questi due elementi di movimento vedete che essenzialmente non ci sono delle voci extra nel telefono che in realtà dunque è al 100% stock. In pratica non avete personalizzazioni di sorta. Le uniche personalizzazioni che avete nel telefono, vi mostro anche i quick toggles che avete a disposizione, ecco, le uniche personalizzazioni che avete, le avete in realtà sulla fotocamera. Allora, qui sulla fotocamera, ecco, avete visto, vi faccio notare anche una cosa tra l'altro, chiudiamo di nuovo tutto, faccio notare una cosa che, ecco, la fotocamera, vedete, ha un tempo di apertura non brevissimo, però, però, però si comporta davvero molto bene. Allora, intanto avete l'opzione per scegliere se volete la fotocamera con la combinazione, con solo il sensore a colori oppure con il sensore monocromatico. cliccando, vedete, su questa icona che appare e che cambia a seconda dell'opzione in cui vi trovate, vedete, con l'opzione video avete la possibilità di scegliere slow motion, time lapse oppure il video tradizionale. Queste sono le due opzioni che vi vengono proposte. Con la fotocamera avete la modalità manuale, per cui a questo punto controllerete tutti i parametri del vostro scatto. Avete l'effetto bokeh che potete utilizzare, quindi lo sfondo sfocato e il primo piano messo a fuoco. La messa a fuoco, invece, diciamo più tradizionale, la messa a fuoco, lo scatto panoramico e poi vedete anche il fatto dello scatto con il ritocchino. In questo modo potete selezionare il livello di ritocco. Io, alla mia età, ovviamente, devo usare il livello 20 e ancora non basta perché mi serve anche il trucco. Volevo farvi notare anche un'altra cosa. Allora, questa, vedete, è la modalità video con le tre opzioni, slow motion, time lapse e la modalità normale. Vi mostro che la parte qua superiore permette essenzialmente di andare immediatamente sul live. Quindi la possibilità che avete è quella di far partire, scusate, un video live su YouTube oppure su Facebook. E poi ancora, l'altra cosa che vi segnalo è questa possibilità della doppia fotocamera piuttosto che doppia videocamera per cui potete girare due video in real time oppure due foto sempre con entrambi, vedete, insomma, essenzialmente avete entrambi i sensori che sono attivati. Quindi, diciamo che il menu della fotocamera è uno dei menu interessanti che trovate dentro questo telefono. Andiamo a vedere, ad esempio, uno scatto normale. In questo momento c'è l'HDR automatico messa a fuoco che, vedete, io posso fissare in questo punto. Scatto, scatto, vedete, scatto praticamente istantaneo. Quello che però, e poi vedete ecco c'è anche un editor volendo delle foto che trovate all'interno del telefono, quello che però io trovo che non sia sempre perfetto è la messa a fuoco. Probabilmente è una questione solo di aggiornamento di software, probabilmente basterà pochissimo per riuscire a migliorare questo aspetto, però ecco la fotocamera non è sempre precisa. Ci sono due elementi in cui, due situazioni in cui non è precisissima. La prima è quando chiedete una messa a fuoco, diciamo, di uno spazio molto ampio, per cui magari quando fate una ripresa piuttosto panoramica il fuoco non sempre è preciso. L'altro aspetto della fotocamera che non è al 100% diciamo preciso è quello invece relativo all'HDR. È sempre meglio forzare l'HDR perché quello automatico spesso, diciamo, ha una lettura un po' così. ...iniminato invece Paolo Lorenzi. Un buon pomeriggio da Ligero Pedote. Allora, audio. Passione Rally. Sentite. Allora, l'audio, tutto qui. Il volume è molto alto, tra l'altro. Il volume è molto alto, lo sentiamo grazie all'ascolto di Radio Number One. Cosa che dovreste fare anche voi, quella di ascoltare Radio Number One. Però, insomma, volume molto alto, le frizioni dei bassi non altissime, ma con una cassa di risonanza così piccola, insomma, mi meraviglierebbe il contrario. Però, devo dire, situazione per quanto riguarda il volume di emissione, soprattutto se pensate al fatto di fare chiamate in viva voce, davvero notevole. Insomma, a me non dispiace, devo dire che è in assoluto il Nokia più bello che ho provato ad oggi. Ha un'area di miglioramento vastissima per la fotocamera, per il resto ricezione buona, velocità di reazione a qualunque comando, vedete, comunque notevole. Voglio dire, è un telefono che merita di essere considerato, insomma, uno dei top del mercato. Tenendo conto che costa anche 480, 490 euro, insomma, può fare la sua parte. Probabilmente non è ancora sufficiente per riuscire a sfondare sul mercato, però diciamo che questo Nokia 8 è veramente un ottimo biglietto da visita. Grazie a tutti.